Sono le 7, buongiorno, giovedì 19 agosto, ben ritrovati. Allora è il momento di guardare insieme i giornali e naturalmente l'argomento principale è la crisi afghana, quanto sta avvenendo nel Paese, perché c'è molta preoccupazione soprattutto per quanto riguarda la condizione femminile, nonostante le rassicurazioni arrivate l'altro giorno dai leader talebani che hanno detto ci sarà il perdono per chiunque ha collaborato con gli stranieri che c'erano prima, che ci sono stati per vent'anni, lo sapete, non ci sarà nessuna ritorsione o vendetta purché tutto avvenga nel rispetto della sharia e tra questo che è appunto la legge islamica e in questo naturalmente racchiusa anche la condizione della donna, donne che continuano ad avere però grandi timori e fortissime perplessità per quello che sarà il loro futuro. Però ci sono anche le prime proteste e ieri a Jalalabad, che è una città appunto dell'Afghanistan, alcune centinaia di persone sono scese in strada, hanno protestato, ma soprattutto simbolicamente non avevano la bandiera bianca dei talebani, ma a quella diciamo verde dell'Afghanistan, della vecchia bandiera del paese. E a proposito però di Afghanistan, è tornato a parlare l'ex presidente Ghani che ha trovato asilo politico negli Emirati Arabi, pare che si sia portato via anche 169 milioni di dollari, lui ha negato, comunque ha detto che presto ritornerà nel paese. Invece chi sembra destinato davvero a tornare nel paese è un altro ex presidente Hamid Karzai, sembra che sia in contatto con la leadership talebana e stiano discutendo di un possibile suo ritorno alla guida del governo. E allora questo per quanto riguarda l'Afghanistan, poi naturalmente abbiamo il consueto quadro che è necessario fare per quanto riguarda il Covid, sono stati oltre 7 mila casi registrati nelle ultime 24 ore, 69 e i decessi. Poi abbiamo anche altre notizie legate al Covid, c'è quella del Green Pass, c'è un'intervista a Landini e vedremo tra poco che cosa dice. Allora, partiamo dal Corriere della Sera, andiamo a vedere il titolo d'apertura. Il volto violento dei talebani dopo i tentativi di rassicurazione, scatta la repressione nelle strade, ponte aereo italiano per chi lascia Kabul e ieri, vi ricordo, sono arrivate le prime 86 persone proprio dall'Afghanistan. L'ambasciatrice Belloni, che è a capo del DIS, il Dipartimento della Sicurezza, ieri è stata ascoltata dal Comitato Parlamentare, ha detto che è previsto un rientro fino a 2.000 persone di afghani che hanno collaborato con gli italiani. Torniamo però sul titolo principale. Spari sui manifestanti, morti, a Jalalabad ci sarebbero stati tre vittime, altri dicono 35, feriti invece nella calca allo scalo della capitale perché continua questa sorta di assedio di persone che vogliono lasciare il Paese imbarcarsi sugli aerei. Assalto all'estato e non saremo una democrazia, queste sono le parole della leadership talebana. E poi ancora abbiamo alcuni richiami. Panetta, parliamo di Stati Uniti, è stato l'ex capo della CIA, dice senza militari sono state perse le fonti di intelligence, c'è un'intervista proprio che gli ha fatto Viviana Mazza. E poi ancora Cina e Russia ora avranno più spazio, questa è l'analisi di Guido Olimpio. E poi come vi dicevo, l'intervista a Landini della CGL, Green Pass, immensa, dico no alle forzature. Vediamo la Repubblica, il titolo, il pugno dei talebani. Il regime islamista annuncia non ci sarà nessuna democrazia e Ajal al-Abbad uccide manifestanti che sfilavano con il vestito afgano, quello verde e non quello bianco dei talebani. Oscurate a Kabul i volti di donne sui cartelloni pubblicitari. Gli Stati Uniti avvertono violati i patti sull'aeroporto. Nel Panshiri inizia la resistenza armata. A proposito degli Stati Uniti voglio darvi però un aggiornamento, un'intervista con il Presidente Biden. Ha detto che è possibile che il rientro dall'Afghanistan sia prolungato anche oltre la fine del mese di agosto per quanto riguarda le truppe statunitensi. Torniamo però sulla prima pagina della Repubblica perché c'è un'analisi di Lucio Caracciolo, il direttore di Limes, il grande gioco della nuova Asia. Il territorio afghano misura da un paio di secoli la temperatura dei giochi che le potenze ingaggiano nel cuore impervio dell'Asia. Poi il personaggio, il ritorno di Baradar, guida dei falchi, è stato uno dei fondatori proprio dei talebani. Andiamo a vedere però altre notizie. Salgono i contagi, questo a proposito di Covid, tra i vaccinati presto la terza dose. E questa è la prima pagina di Repubblica. Vediamo la prima pagina della stampa. La rivolta afghana a Kabul si spara quindi non soltanto a Jalalabad ma anche nella capitale. I talebani dicono niente democrazia. Oggi il G7, c'è il G7 dei ministri degli esteri. Invece la settimana prossima, su proposta del premier britannico Johnson e del presidente dei Stati Uniti Biden, dovrebbe esserci l'altro G7, quello dei capi di Stato e di governo. Governo spaccato sull'accoglienza. Torniamo sull'occhiello. Protesta a Jalalabad, 35 le vittime, dice la stampa Conte. Il Movimento 5 Stelle si tasserà per i rifugiati. Bonino, nessuno li vuole. C'è un'intervista anche a Emma Bonino, è interessante leggere insieme quello che dice. E poi Domenico Quirico, coi profughi senza scelta. Cambiamo argomento. Vi dicevo l'altro, è quello del Green Pass e del Covid. Le lide sul Green Pass che divide CGL e sindacati. 7-6 minuti, ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, il caffè se volete e ci vediamo. Subito dopo, siamo qui e vi aspettiamo. 7-10 minuti ben ritrovati. Allora, andiamo a vedere ancora qualche prima pagina. Prendiamo il domani, il titolo, naturalmente sull'Afghanistan, il ritorno dei talebani, la smobilitazione disordinata della diplomazia europea. La Commissione europea, lo evidenziamo, vuole rimanere a Kabul il più a lungo possibile e fra i diplomatici italiani c'è chi critica il rimpatrio dell'ambasciatore. La riunione di coordinamento è andata deserta. In questa bella immagine vedete il portellone di un aereo che accoglie alcuni che lasciano il paese. Vedete, ci sono anche alcune donne che lasciano l'Afghanistan per imbarcarsi su questo aereo che riporterà, in questo caso, un aereo militare spagnolo. Andiamo a vedere un'altra prima pagina. Il manifesto. Nella morsa talebana, a Jalalabad, almeno tre morti nelle proteste, qualcuno ha scritto 35, a difesa della bandiera afghana, che è questa qui, rossa, verde e nera, ammainata dai talebani. Tra Kandahar e Kabul, invece, fermano i colloqui con i leader che aspirano a una fetta di potere nel prossimo sistema. Unica certezza, non sarà una democrazia. Restiamo un momento sulla prima pagina del manifesto perché ci sono anche altri argomenti. Uno riguarda il futuro di Alitalia. Vedete, Iita, la nuova compagnia, può decollare, però anche in 8.000 resteranno a terra. E poi l'eutanasia legale, la conferenza episcopale italiana, panico, referendum, nichilisti, pro morte. Questo, appunto, è un altro argomento di dibattito, di confronto politico. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Afghanistan, ora i talebani sparano sulla folla. Kabul si prepara alla grande festa con i signori del terrore. E poi il titolo centrale, importante, lo vedete per quanto riguarda la situazione del Covid, picco di decessi in Sicilia. Vi ricordo che venerdì si riunisce il comitato tecnico-scientifico e da lì potrebbero arrivare alcune decisioni, anche importanti, per quanto riguarda la colorazione di alcune regioni, tra le quali appunto la Sicilia, in base ai nuovi parametri, potrebbero diventare zona gialla. Leggiamo però nel sommario. Nella regione, un terzo delle vittime, ospedali in affanno, zona arancione, più vicina addirittura a zona arancione, rallenta la campagna vaccinale, 100.000 contagiati in più rispetto all'estate scorsa. Resto però sulla prima pagina del messaggero, perché c'è un altro argomento, del quale si parla abbastanza poco, ma un pochino di più negli ultimi giorni, ed è questo rave party nel Viterbese, al confine tra la provincia di Viterbo e Grosseto, quindi la Toscana, dice che il rave prosegue nonostante il morto. C'è stato anche un decesso, un ragazzo è morto, la procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta, le indagini, ed è incredibile che ci sia questa che viene definita una festa fuori legge, iniziata cinque giorni fa. Pensate che il giorno di Ferragosto erano 10.000 persone. Il Viminale dice che stiamo trattando. Andiamo a vedere avvenire. Vicini a chi soffre, i Vescovi sul referendum in tema di eutanasia, scegliere la morte è una sconfitta, il Papa vaccinarsi, atto d'amore, un modo di promuovere il bene comune. E poi questa fotonotizia probabilmente si riferisce a Jalalabad, anzi certamente ieri sono scesi per protestare contro i talebani, i talebani sparano sulle prime proteste e l'Europa esita nell'accoglienza. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Il titolo in alto è sull'andamento del Covid. Ieri 69 morti, un anno fa erano 5, ecco perché oggi va peggio. E poi invece, vedete in questa foto, vengono ritratti alcuni militari italiani. L'approfondimento è proprio su questo. Missioni militari, 20 miliardi in 17 anni. A cosa servono? 40 operazioni con 9.000 uomini schierati. Questa è l'apertura del Fatto Quotidiano. Vediamo il giornale. Torna a parlare di talebani e di Afghanistan. Altro che i nuovi talebani taglia gole di sempre, così ridefinisce. Primi scontri con i manifestanti, alcune decine di vittime. Loro rivendicano mai una democrazia. In Afghanistan comanda il Corano. E poi ancora questa parte qui, questo titolo sul Covid. I viri numeri. Solo l'1,2% dei morti è vaccinato. Laboratorio Londra ha domato il virus in un mese di libertà grazie al Siero. Questo è il giornale. Vediamo il tempo. Qui rischia di vincere il virus. Non bastano i vaccini. In Italia, come già in Stati Uniti e Israele, prima evidenti crepe nell'immunizzazione dopo le due dosi. E ora Pfizer gela gli azionisti. Produzione al rischio. Stiamo provando con due altri antivirali. Vediamo la verità. La morgese, droga e rock and roll. L'immagine è quella del Ministro dell'Interno. E naturalmente ci si riferisce al Rave Party. Multe a clienti e ristoratori per mancato Green Pass. Mentre da giorni migliaia di persone sono libere di ammassarsi. Ignorando ogni precauzione per un selvaggio Rave Party. Senza che il Ministro alzi il sopracciglio. Neanche la morte di un ragazzo. Come Tilici. Due stupri cambiano le cose. Il concerto illegale va avanti. Intanto la nave dei Fighetti ZTL sbarca in Sicilia. Altri 166 clandestini. Andiamo a vedere libero il titolo. La balla dei talebani. Fanatici islamici. Peggio del virus. A sinistra credevano che i nuovi capi dell'Afghanistan fossero moderati. Invece uccidono chiunque si ribelli. Contro il Covid c'è l'antidoto. Contro la Sharia no. Ecco le regole terribili. Leggiamo Vittorio Feltri che cosa scrive. Siamo tuttora alle prese con la pandemia. Da un anno e mezzo siamo condannati a vivere con la paura di crepare. A destreggiarci tra mille di vieti. Alcuni totalmente idioti. Non è il caso di lancarli. Posto che la gente li ha sperimentati. E li sperimenta personalmente. Ed ecco che negli ultimi giorni è successo qualcosa che sembra ancora più grave dell'avvento del virus. Mi riferisco ai casini inenarrabili dell'Afghanistan dove i talebani si sono nuovamente impadroniti del paese. Incapace di tutto tranne che di coltivare oppio e venderlo al mondo intero a prezzi esorbitanti. Impestando con la droga miliardi di maschi e femmine fragili o viziosi. Giudicate voi. Questo il commento di Vittorio Feltri. Chiudiamo la lettura delle prime pagine con il sole 24 ore. C'è un'intervista a Patuelli, il presidente dell'ABI. Dice autunno decisivo per il fisco. Ridurre le differenze nell'Unione Europea. E poi però si occupa anche di Afghanistan. Guardate questo titolo. Hamid Karzai è il vecchio presidente dell'Afghanistan prima dell'attuale ex-Ghani che ha trovato asilo negli Emirati Arabi. Allora dice Karzani, talebani, governo inclusivo. Perché si sta trattando per un possibile suo ritorno in questo caso alla guida del governo. E allora andiamo a vedere gli approfondimenti. Partiamo dal Corriere della Sera. Vi ho detto ieri ci sono state alcune proteste, soprattutto a Jalalabad. Proteste, spari morti, torna la furia talebana. Si accendono focolai di rabbia in diverse province. Naturalmente c'è chi è contrario alla presa del potere da parte dei talebani. Ma i nuovi padroni non vogliono permettere disordini. A Kabul 5.000 soldati americani controllano l'evacuazione. Vediamo l'inizio di questo articolo. La protesta inizia verso le 8 della mattina nel centro di Jalalabad. Centinaia di giovani si radunano nella strada principale e corrono verso l'arco di cemento nei pressi del parco municipale per rimuovere la bandiera talebana e rimettere quella nazionale afghana del governo appena a dei posti. Si sentono fischi, urla slogan, avvia talebani, vive il nostro paese, gridano. Sembra una normale manifestazione, come erano abituati a fare sino a pochi giorni fa. Questo è quanto scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. E poi a pagina 3, quella era pagina 2, restiamo sempre sul Corriere della Sera, Lorenzo Cremonesi che conosce molto bene le vicende di quel paese. Tutti a candare, i vincitori trattano con gli avversari per il governo. Democrazia mai. E poi vedete, rispunta Karzai, che è quest'uomo qui con il braccio leggermente alzato, seduto qui a sinistra. Hamid Karzai è l'ex presidente filo USA. Continuità di cambiamento in procinto di annunciare la formazione del loro nuovo governo. I talebani lanciano segnali contraddittori, non rinnegano il loro passato, minaccioso e violento oscurantista, carico di memorie terribili. Però paiono anche mostrare la volontà di aprire ai leader politici esteri. Nel primo fra tutti, l'ex presidente Hamid Karzai, in prima fila nel cooperare con quella stessa coalizione internazionale guida americana, che nel 2001 lidde il fenestrò violentamente dalla posizione di potere assoluto, cui erano assurti nel 1996, in seguito a una furibonda guerra all'ultimo sangue, con le milizie Mujedin dopo la ritirata sovietica nel 1991. È molto complicato riuscire a capire perfettamente cosa accade in quel paese e soprattutto ricostruire gli ultimi anni. Abbiamo, sempre sul Corriere della Sera, a pagina 7, un'intervista a Panetta, l'ex capo della CIA, dei servizi segreti americani per intenderci, dopo il ritiro dei militari siamo rimasti senza fonti sul terreno, però punta anche il dito con un paese confinante con l'Afghanistan, ed è appunto il Pakistan. L'esponente di spicco delle amministrazioni democratiche dice che nessuno è mai il padre del caos, ma le informazioni non sono state fornite in modo tempestivo alla Casa Bianca. E allora che cosa dice, intervistato da Viviana Mazza? Dice pagheremo un prezzo, sarà difficile impedire che i gruppi preparino attacchi all'estero, quindi questo sul rischio attentati. E allora dice non sono sicuro dei termini usati, ma penso che non siano state fornite informazioni precise in modo abbastanza rapido, ma parte del problema è che ritirando le truppe abbiamo perso le fonti stesse che ci fornivano l'intelligence sul terreno. Non c'è dubbio che si sarebbe potuto pianificare meglio l'uscita, per esempio mantenendo una presenza più ampia fino alla fine. In secondo luogo non ci voleva un genio per capire la situazione. Questo è quanto dice appunto Panetta, forse con qualche critica all'amministrazione. E allora andiamo sulla stampa, pagina 3. Ecco il rapporto che accusa gli Stati Uniti. Non abbiamo capito l'Afghanistan allo Special Inspector per la ricostruzione, elenca le colpe americane, una catena di errori lunga vent'anni. Questo appunto, vi leggo soltanto il titolo per rapidità, ma poi vi consiglio la lettura e l'approfondimento se siete interessati. Restiamo sempre sulla stampa, pagina 4. Riprendiamo questa foto che abbiamo visto anche prima. La pancia, la stiva di questo aereo che accoglie appunto chi sta lasciando, chi è fortunato al punto da poter lasciare il Paese imbarcarsi su un aereo. E allora la grande fuga, questo è il titolo del servizio di Francesco Livo, prosegue il ponte aereo per l'evacuazione degli sfollati. Draghi, il nostro premier, telefona Johnson, Boris Johnson, il premier britannico. Oggi ci sarà un G7 dei ministri degli esteri su stabilità e diritti. E poi Emergency, che cosa ci dice? Emergency sta continuando ad operare nel Paese. Chi resta qui è smarrito e disperato, sperava nell'Occidente, è stato abbandonato. Questo appunto è quanto riporta Emergency. Andiamo a vedere, su Repubblica, un G20 straordinario sull'Afghanistan. Questa è la mossa di Draghi per i profughi, la proposta che viene dal nostro Presidente del Consiglio. Il premier, ci ricorda la Repubblica, ha sentito Boris Johnson, oggi parlerà con Putin. La ministra Bonetti prepara il vertice sui diritti delle donne del 26 agosto, perché naturalmente da parte della comunità internazionale c'è molta preoccupazione per il destino delle donne. Vi avevo anticipato prima che ieri Elisabetta Belloni, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni, che è a capo del DIS, il Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza, è stata ascoltata dal COPA, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza. E allora che cosa ha detto? Ha detto che c'è una lista con 2.000 nominativi di afghani che hanno collaborato col contingente italiano Erat e che si spera nelle prossime settimane di riportare in Italia. È quanto appunto ha riferito la direttrice del DIS, Elisabetta Belloni. Andiamo sotto però, c'è una corrispondenza di Tony Amastro Buoni a proposito di accoglienza di migranti, dice che sui rifugiati c'è uno scontro nell'Unione Europea, i paesi vicini a Kabul non accoglieranno chi fugge, mentre sembra che invece gli altri paesi, quelli europei come sostiene Emma Bonino, ecco qui un'intervista sulla stampa, non sarebbero disposti al di là delle buone intenzioni ad accogliere. Infatti guardate il titolo. Tra i governi europei non c'è accordo, nessuno vuole ricevere i profughi. L'ex ministra ed ex commissaria a Bruxelles dice che le promesse dei talebani dureranno lo spazio di un mattino, gli estremisti non sono più quelli del 97, ma la giornalista della TV che intervissa il loro portavoce è una sceneggiata. Questo è quello che dice, però ci sono anche altre cose, come quello che mi ha sbalordito, dice l'impreparazione della coalizione degli americani su tutti, Cina, Russia, Turchia, i sole a non chiudere le ambasciate, è chiaro con chi tratteranno i talebani. E poi corridoi umanitari, uno slogan è palese che si sta negoziando, altrimenti ora non partirebbe nessuno. Questo è quanto dice appunto Emma Bonino. Voglio farvi vedere a pagina 8 della Repubblica c'è questa analisi molto interessante, da chi conosce molto bene la materia come Lucio Caracciolo che è il direttore di Limes, evoca il nuovo grande gioco per il cuore di Kabul, vincitori e vinti, guardate questo scenario che dà il senso di quanto sta accadendo nel Paese con alcuni protagonisti, Turchia, Iran, Pakistan, India, Cina e Russia. 7 e 24 minuti, mi fermo qui con la lettura dei giornali, qualche istante di pubblicità e se volete ci vediamo tra poco con le notizie del telegiornale. Vi aspetto. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.